E io mi ero fidato e sentirmi tradito così, i danni sono stati e sono terribili, perché non avevo sentito la mia salute. Il signor Giacomo è un piccolo azionista della Banca Popolare di Vicenza. Ha perso 89.000 euro con il crollo del valore delle azioni, scese da 62,50 euro a 6 euro. Ho pensato a un mondo di menzogne, di inganni e che ero entrato in una questione, in un dramma più grosso di me. Lo scorso sabato la prima assemblea della banca trasformata in SPA ha bocciato la richiesta di azione di responsabilità, per chiedere cioè i danni a che ha provocato il dissesto. Ma ha approvato la politica di remunerazione, con buone uscite milionarie per gli ex vertici. All'ex presidente Zonin è andato un milione. Siamo a Noale, in provincia di Venezia, qui abita Samuele Soratto, l'ex amministratore delegato della Popolare di Vicenza, che ha portato a casa una buona uscita di quasi 5 milioni di euro. Mentre l'azione perde il 90%, mentre gli spaventori piangono la perdita drammatica degli spani, questi signori a 4 milioni, 1 milione e mezzo, 1 milione di movimenti annui, hanno visto incrementare il loro compenso. È indecente. Alla Popolare di Vicenza, bocche cucite. Fonti interne fanno sapere che le buone uscite erano inattaccabili perché previste da contratto e che l'azione di responsabilità è solo rimandata a quando ci sarà il nuovo CDA. A quei signori non credo quando dicono che loro la promuoveranno. Non credo. Non credo più. Adesso cosa si può fare? Cause, cause, cause. Denunce per truffa, risercimento danni a chi ha venduto azioni a un prezzo sopraelevato. E cause? A chi ha portato la banca in questa situazione. Il sindacato dei bancari, a favore dell'azione di responsabilità, difende i dipendenti accusati di aver truffato i risparmiatori. C'è un top management che spinge perché si raggiungono questi obiettivi. Spingono anche a volte minacce, minacce di trasferimenti, minacce di cambiamento di mansione dall'oggi al domani e quindi i lavoratori si trovano spesso in una situazione di grande difficoltà. Il comitato di Don Enrico Torta, il prete dei risparmiatori, ha salvato molti investitori dal suicidio. Abbiamo trovato centinaia di persone in difficoltà. Tolgono la gioia di vivere. Siamo... è un omicidio. Allora, avete sedito da 62...